bella a tutti ragazzi in questo nuovo video io sono igor e oggi farò un po' il tour cioè di quello che ho sistemato allora come potremmo vedere qua c'è il mio piccolo studios vabbè qua che monterò a breve un video vabbè questo penso che avete già visto il computer vabbè qua tutta la postazione l'unica cosa che è cambiato questo e questo e basta cioè questo tour dura pochissimo cioè come vedete qua sto per fare un video di fornite quindi spero che va tutto alla grande c'è devo pulire che mi sa la telecamera perché si vede un po male quindi c'è la telecamera è questa qua stra bella quindi vabbè io vi dico di iscrivervi al mio canale e di supportarmi vi ringrazio dei 25 visualizzazioni e noi ci vediamo in un nuovo video a dopo a fornite bella a tutti i ragazzi